La sicurezza è una sicurezza massima perché basta vedere l'esterno, sulle ruote ci sono i protettori di quelli che sono i dadi che potrebbero svitarsi durante il viaggio delle busse stesse. C'è una migliorata qualità del servizio dovuta al fatto dell'inquinamento perché sono tutti Euro 6, quindi di ultima generazione e hanno tutti i controlli elettronici riguardo anche alla pressione delle gomme e a quello che sono tutto il motore, per cui anche su questo credo che questa flotta di 21 busse che entra in servizio darà un contributo a quella che è la percezione di sicurezza e qualità del servizio sul nostro territorio.